Buongiorno a tutti cari tifosi della Juventus Football Club. Buon mercoledì, mercoledì tosto, mercoledì duro, mercoledì difficile. Non ci saranno tutti i soliti contenuti perché solitamente porto il post partita, la live reaction, le pagelle. Questi tre, due, sono già stati caricati, le pagelle sono queste. Non ci sarà un'analisi post partita perché sembra anche indecoroso cercare di analizzare questa prestazione. Partita palesemente a senso unico per via del Maccabi che l'ha strameritata quella vittoria. Ieri sera vi ho portato le parole di Andrea Agnelli e quindi facciamo finta che quel video vada a sostituire un po' il discorso legato all'analisi complessiva della partita. Io vi invito ovviamente a scaricare il numero 10, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. Applicazione che vi permetterà di vincere una maglia della vostra squadra del cuore. Se siete i ventini magari questo può essere il modo più semplice per tirarvi un po' su di morale perché è vero che in questo momento la Juventus si sta facendo soffrire però la passione, l'amore per la maglia quello rimane sempre. Quindi magari portarvela a casa in maniera gratuita potrebbe essere una buona notizia per voi. Vi invito a scaricarlo, iOS Android gratis qui sotto in descrizione. E niente, io direi di partire con quelle che sono le pagelle di Maccabi Haifa Juventus, partita persa per 2-0. Devo dire la verità, me lo sentivo ma lo sapete, ve l'avevo detto qui sul canale. Voglio anche riconoscere il fatto che in tanti eravamo orientati sulla sconfitta della Juve, tanti ci sentevamo questa cosa, c'era poi qualcuno che era un po' più positivo, che continuavo magari a dire che eravamo un po' più negativi noi, ma ci sta, io anzi ho invidiato tanto quelle persone che riuscivano a trovare un qualcosa in più, un qualcosa da inseguire, in cui credere. E questa situazione è complicata, molto complicata, è una situazione difficile. Scemo io che probabilmente non ho giocato la vittoria del Maccabi, perché me la sentivo proprio dentro le ossa, ed è stata una vittoria meritatissima da parte del Maccabi. Diciamo che possiamo iniziare a parlare definitivamente di questa sfida. Voto 2 a Massimiliano Allegri, è lo stesso voto che avevo dato nella partita col Monza, probabilmente questa partita è andata pure peggio rispetto a quella col Monza, devo essere onesto, però 2 credo che sia il voto più giusto. Ascoltavo il video di Davom, nel quale giustamente diceva che in questo momento non è un discorso legato ai giocatori, io sono d'accordo, perché ieri sera vi dicevo potrebbe esserci chiunque, Mbappé, Messi, Neymar, Verratti, potete prendere il PSG e mettere una Juventus in questo momento, potete aggiungerci Holland, De Bruyne, potete aggiungerci Van Dijk, Alexander-Arnold, metteteci tutti i giocatori che volete, davvero, ma in questo momento il problema è un po' più profondo. E sono d'accordo con Davom quando dice che non è il problema che gioca uno, gioca l'altro, la scelta di formazione, però io non posso non valutare anche questo nell'analisi della prestazione dei singoli e quindi delle scelte di formazione di Massimiliano Allegri, perché in questo momento sono d'accordo che non sia un problema di chi fai giocare, perché puoi far giocare chiunque e in questo momento vieni assorbito in maniera negativa dal buco nero che si è creato dentro la Juventus, però in un momento così complicato in cui di sicurezza e non ne hai, di certezza e non ne hai, se continui poi a creartela addirittura, l'incertezza, creartela, il motivo per soffrire, per rischiare ancora di più, cambiare completamente la coppia difensiva rispetto alla partita di sei giorni fa, tenere in panchina Milik che è il giocatore migliore di questo momento, continuare a utilizzare lo stesso sistema tattico che non sta funzionando, cioè, arrivata una certa, vi viene da dire, non sta funzionando in quella maniera lì, ma il punto è che lo stesso Allegri, cioè, non uno dice due persone diverse, lo stesso Allegri al club ti dice, a un certo punto, quando le cose, comunque non andavano male, ma vedevi che le partite erano un po' così, decido di lasciare da parte alcuni giocatori della squadra, decido di puntare soltanto su quelli che secondo me sono più affidabili e le cose migliorano. Da un anno e mezzo a questa parte la Juventus non ha un'identità di gioco, non ha una formazione predefinita, non ha una scala di titolari, ieri parlavo con un mio amico che non tifa Juve nel gruppo del calcio, gli ho detto, ma avete visto la formazione che ha schierato Allegri, è una formazione quasi da turnover nella partita più importante della stagione fino a questo momento, perché se la perdi sei fuori, se fai una figuraccia è terrificante, e lui mi ha risposto, io non sto seguendo tanto la Juve, però devo ancora capire che sono i titolari. E io gli ho detto, guarda, io non mi perdo una partita, vivo costantemente immerso all'interno del mondo Juve, e non te lo so dire neanche io. Noi siamo schiavi in questo momento di questo sistema tattico che Allegri ritiene ideale, questo 4-4-2 storto, e sembra che il resto non esista. Io per dire io non sono amante dell'idea della difesa 3, non credo che questa Juve sia stata costruita per giocare così, però perché non la proviamo? Ma anche nel momento in cui devi recuperare 6 sotto di 2, perché non togli Rugani? Perché non togli un difensore e giochi con 3 difensori e cerchi di spingere? Cioè Rugani si è fatto 90 minuti, ragazzi, il fatto che giochi Rugani, e poi vedremo che Rugani delle colpe ce le ha, il problema davvero non è Rugani, diceva benissimo Davo, il problema non è Rugani, il problema non è che non giochi Milik, il problema è tutto l'insieme, ma queste cose, l'insieme lo vanno a danneggiare, perché poi Rugani a livello di prestazione singolare fa una partita vergognosa, ragazzi, fa una partita da giocatore palesemente non adatto alla Champions League, ma non stiamo parlando della Champions League contro il Manchester City, cioè ieri sera non c'era il Real Madrid, non c'era il Barcellona, non c'era il City, non c'era il Bayern Monaco, non c'era il Liverpool, nemmeno il Chelsea che va a vincere a Milano a San Siro, ieri sera c'era il Maccabi Haifa, una squadra che è vent'anni che non vinceva una partita di Champions League, vent'anni, venti anni, tra l'altro leggevo oggi che l'allenatore del Maccabi è lo stesso allenatore che allenava il Birsheva quando ha battuto l'Inter in Champions, lo ricorderete, quindi proprio per chiudere un cerchio perfetto relativo al momento della Juventus, un parallelismo importante con l'Inter, fantastico, quindi io, non posso salvare, non posso dare una valutazione positiva a Massimiliano Allegri, io sto continuando a vedere gli stessi errori di questa Juventus da inizio stagione, gli stessi errori trasportati dalla stagione precedente, lo stesso sistema tattico, cambiamenti pari allo zero, virgole, nemmeno le virgo, cioè, prova un rombo, prova una difesa 3, prova un 4-2, qualcosa però bisogna provare, cioè, non posso dirvelo io, non sono io l'allenatore della Juventus, non faccio l'allenatore, non ho il patentino, però, logicamente, è un discorso puramente logico, è un'opinione, se vedi che non sta funzionando questa cosa, ma non da oggi, cioè, non è che dici, l'hai fatto una partita, non ha funzionato, la provo una seconda partita, magari funziona, ma se tu sei fermo a questa cosa qui, ormai da mesi, diventa una cosa stagnante, se iniziano a avere nemmeno, se continuano a avere nemmeno più certezze sui titolari, sul dar continuità di rendimento, cioè, Bremer ci sta che mi riposi, certo che ci sta, ma in un momento del genere, Bremer deve stringere i denti, non so che cosa avesse Bremer, non so perché non ha giocato, in un momento del genere, Mermigli deve partire titolare, è tutto l'insieme delle cose, perché ha ragione Agnelli, quando dice che non è il problema di uno, è un problema di gruppo, certo, ma nel calcio è sempre stato così, attenzione, cioè, quando è stato esonerato Sarri, non erano tutte colpe di Sarri, e lo dice uno che Sarri non l'avrebbe esonerato, avrei esonerato Pirlo, ma quando parlo dell'esonero di Pirlo, vi dico che non è tutta colpa di Pirlo, ma che diventa il capo respiatorio di una situazione, perché nel calcio è così, da sempre, quando vi dico, ormai un mese fa, cosa sarà stato, sì, tre, quattro settimane fa, che non sarei più andato avanti con Allegri, vi dico che non sono tutte colpe di Allegri, ma buona parte di colpe di Allegri, perché nel calcio è sempre così, la colpa non è mai di uno, è del gruppo, però nel calcio, poi quando le cose vanno così male, e ad ottobre, qualcosa devi fare, non puoi semplicemente guardare e dire, arriviamo a fine stagione, io sono sempre stato uno di quelli, che diceva, sì, arriviamo a fine stagione, poi valutiamo alla fine, ho capito, però lo dicevo, a gennaio, a novembre, dicembre, e in situazioni migliori, decisamente migliori rispetto a queste, febbraio, in questa situazione a ottobre, la stessa persona che l'anno scorso vi diceva, sì, aspettiamo, poi valutiamo, posso dirvi la stessa cosa, perché è terrificante, sarebbe mettersi le mani sugli occhi, non voler accettare la realtà, poi non sono tutte colpe di Allegri, certo che no, ma ne ha tante, cioè se la Juve non fa mai un tiro in porta, non è che dici una partita, non ti riporta, succede, ma se prendi un filotto di partite, non tiri mai in porta, salvo quelle due partite, magari sporadiche, in cui dei tiri li fai, ma come fanno ad essere colpe dell'allenatore, se c'è un problema fisico, lo staff atletico, medico, se lo porta dietro l'allenatore, cioè è un insieme di cose che non vanno, sono d'accordo, le parole del presidente sono giuste, sono giuste, è un insieme di cose che non vanno, però la cosa sbagliata, è non fare niente per cercare di modificarle, è cercare di trascinarsi, ha detto un orizzonte alla fine della stagione, è questo l'errore, non l'analisi complessiva, l'analisi complessiva di Agnelli, è giustissima, il problema di fondo, è quella decisione che viene presa, è l'output, perché è vero che non è tutta colpa di Allegri, ho capito, però nel calcio è sempre stato così, che se deve saltare una terra, cosa fai? Cambi 20 giocatori a gennaio? Cambi tutta la dirigenza adesso? Cambi tutto lo staff dei medici? Perché si parla di 90 persone, certo, vanno parte tutti del calcio, della Juventus, erano tutti una parte di colpa, chi più chi meno, però in questo momento non puoi non cambiare qualcosa, c'è qualcosa che devi fare, se no si diventa veramente complici, perché adesso il dito grande puntato, ce l'ha Massimiliano Allegri, perché l'allenatore nel calcio è sempre così, ma se decidiamo di andare davvero avanti così, il dito poi io non lo punto più sull'allenatore, non lo punto più sui calciatori, lo punto su chi non ha le palle di decidere, perché più volte ho fatto un video che viene denominato, in cui aggiungo sempre qualcosa, i errori della dirigenza, i quattro anni di errori della dirigenza, errare umano, perseverare diabolico, chi vuole intendere intenda, Szczesny voto 5, perché oggettivamente, due gol che ha preso, potrebbe sicuramente fare meglio, però 5 e non 3 o 4, perché ragazzi, nel primo tempo, gli colpisca nell'aria piccola, completamente indisturbato l'attaccante, il gol che prende, prende gol di schiena, e va a pasticciare sul palo, ma questo ancora una volta salta indisturbato, nel secondo tempo, gli tirano una fucilata, lui per fortuna la para nell'angolino basso, il gol che prende, lo prende sul suo palo, e sicuramente poteva far meglio, ma Alexandro non accenna minimamente, ad andare a contrastare l'avversario, sembrava quasi un tiro al bersaglio, da parte di Szczesny, sembrava un allenamento, una sfida, tra i giocatori del Maccabi e Szczesny, un 1 contro 1, è ovvio che il portiere prende gol, cioè, oggi fare il portiere della Juve, non deve essere una cosa simpatica, no, per niente, quindi sì, Szczesny ha delle colpe, e si becca un voto insufficiente, però ragazzi, questi tiravano indisturbati, i difensori non marcavano, non uscivano, anzi, tappeto lo so, prego, vada, anche il gol col Milan, certo, Szczesny prende gol sul suo palo, forse poteva far meglio, ma figa, ma Bonucci gli ha detto vada pure, Rugani e Alexandro ieri sera hanno detto vada pure, così diventa complicata, diventa veramente complicata, per il portiere, vado 4 a Bonucci, perché in questo momento Bonucci, un po' la rappresentazione di questa Juventus, è il giocatore storico, è l'unico che è rimasto dal ciclo del primo scudetto, con quella breve parentesi al Milan, ed è l'immagine della decadenza della Juventus, dell'invecchiare in un certo modo, e forse invecchiare anche male, dell'arrivare a un certo punto, in cui capisci che il ciclo è finito, è il capitano della Juventus, Bonucci, oggi, è quello che probabilmente, sta sendendo anche di più la situazione, ma anche uno di quelli che, purtroppo volente o nolente, ma non per colpa sua, per un insieme di ragioni, non è più in grado di dare quello che dava una volta, voto 3 a Rugani, perché è vero che il problema non è Rugani, ma se vado ad analizzare, proprio generalmente, la partita, i macroerrori sono suoi, sembrava di vedere un giocatore, di terza categoria, che mi va a giocare in eccellenza, è lo stesso parallelismo, è come mettere un giocatore di serie C, a fare il titolare nella Juventus, e se non è pronto, e se non gioca da agosto, e viene rispolverato, riesumato, risuscitato, per una partita di Champions così importante, è colpa di Rugani, certo, ma è anche colpa di chi lo mette in campo, come è sicuramente colpa di Allegri, ma se di fronte all'evidenza, poi non viene nemmeno esonerato, la colpa allora è di chi sta sopra ancora, ormai deve esserci questo rapporto di effetto domino, tra colpa e responsabilità e meriti, perché se no non si va da nessuna parte, voto tre ad Alexandro, perché ragazzi veramente, mi sembra di vedere giocare un morto, un morto che cammina, i gol che prendiamo ragazzi, ma anche il primo, poi ci sono altre occasioni di mischia, ma Alexandro non fa una diagonale, ma Alexandro fa tirare in por, ma non va in contrasto, non spinge, non difende, non attacca, ma qual è il ruolo? Voto cinque a Danilo, che a fine primo tempo mi sono chiesto, ma c'è ancora in campo Danilo? Però nella serata di ieri sera, non essersi accorti di avere in campo uno come Danilo, era una cosa positiva, perché mi ero accorto di Alexandro, mi ero accorto di Rugani, mi ero accorto di Bonucci, perché c'erano degli errori evidenti, vuol dire che Danilo aveva sbagliato, nel secondo tempo sono stato un po' più attento a Danilo, ancora tanto cuore, ancora tanta voglia, questo non basta, questo non basta più, Allegri mi parla di cuore e di passione, e mi fa girare le palle, perché vuol dire veramente puntare il dito contro i giocatori, quando parli di cuore e passione, Danilo ce la mette, ce ne vorrebbero 11 certo, ma siamo sicuri che con 11 Danilo in campo, arriveremmo a raccogliere dei risultati, no in questo momento non basta nemmeno più quello, in questo momento non basta nemmeno più quello, Voto 4 a Paredes, male 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 malissimo, male male malissimo, eppure io che Paredes a inizio anno non lo volevo, oggi sono qui a dirvi, che Paredes per questa squadra è importantissimo, da Paredes bisogna ripartire, perché è un leader tecnico di questa squadra, e lo ribadisco, ve lo dice uno che non l'avrebbe preso, che non l'avrebbe preso, però oggi l'hai preso, è un giocatore importante, con un status importante, con un carattere importante, e devi metterlo nelle migliori condizioni per fare bene, perché sapevi che tipo di giocatore andavi a prendere, e Paredes ordina questa squadra, te la può mettere, però devi anche metterlo nella condizione, di avere una squadra che giri in un certo modo, perché Paredes non cammina ancora sull'acqua, non trasforma l'acqua in vino, non riesce a moltiplicare il pane e i pesci, non ci riesce, però in un contesto di una squadra ben rodata, assemblata, con dei compiti definiti, Paredes fa la differenza, e se tu sogni semplicemente, di mettere dentro un giocatore, sperando che questo ti possa risolvere i problemi, significa che negli ultimi anni, non hai capito una beniamata minchia, e quindi Paredes va tutelato e salvaguardato, prestazione inguardabile ieri sera, come tutta la Juventus, ma la colpa è di Paredes, come la colpa è di Vlaovic, perché non ti importa, come fa Vlaovic a tirare in porta, quando gli arriva la palla, come fa? Come fa? Voto 5 Rabiot, che non mi è piaciuto, ma forse è stato uno dei meno peggio, Rabiot prende 5, ed è stato uno dei meno peggio, voto 4 McKennie, perché dove diavolo ha giocato McKennie, qual è stato il ruolo di McKennie, qual è la funzione di McKennie, l'utilità di McKennie, poi te la prendi con McKennie, certo, come con Rugani, però poi ti chiedi, perché viene messo in campo? Secondo quale logica? Per quale motivo? Qual è il compito? Qual è l'utilità? Sulla carta, sulla carta, non in campo, sulla carta, metti in campo McKennie perché? Lo metti in quella posizione perché? Ti serve perché? Domanda alle quali non riesco a darmi una risposta, e allora poi è ovvio che l'output qual è? McKennie si piglia 4, ancora una volta, è tutta colpa di McKennie? mettiamo in croce tutti i giocatori se vogliamo, attenzione, non sto dicendo che non abbiano delle colpe, perché se si beccano 4, vuol dire che la prestazione l'hanno fatta male, attenzione, cerchiamo di non fare confusione, se prendono 4, significa che la prestazione l'hanno fatta male, e sono colpevoli, però attenzione, a puntare al dito, colpa di Rugani, colpa di McKennie, colpa di Alexandro, colpa di Paredes, colpa di Blauvic, 4 se lo beccano eh, non gli va a togliere nessuno, però attenzione, 4 a Quadrado, giocatore, basta, cioè, giocatore finito, mi viene da dire giocatore finito, basta, non mi viene da dire nient'altro, giocatore finito, questa stagione Quadrado, non è mai stato determinante, mai, mai, in questa stagione, fino adesso, non è mai stato determinante, contratto in scadenza, probabilmente l'ultima stagione alla Juventus, grazie per tutto quello che hai fatto, io storicamente, sono sempre stato innamorato di Quadrado, mi piange il cuore, vedo un Quadrado così oggi, mi piange il cuore, perché questo la Juventus è stato tanto, tantissimo, e guarda un po', che cosa sta succedendo, l'8-5 di Maria, perché finché è stato in campo, è sempre stato anticipato, mangiato, massacrato a quelli del Maccabi, poi fa uno scatto, si rompe, gestione di Maria, imbarazzante, livelli amatoriali, della gestione fisica di Di Maria, perché sai che se prendi un classe 88, devi, starci un po' più attaccato, rispetto a quegli altri, programma personalizzato, di un certo tipo, invece Di Maria sembra che, che venga trattato come un ragazzino di 20 anni, si rompe, sarà colpa di Di Maria, l'8-5 a Vlaovic, sarà colpa di Vlaovic se non vinciamo, sarà colpa di Vlaovic, io ve lo torno a dire, perché forse, poi qua qualcuno si è dimenticato, quando mi giravo al cazzo, perché Ronaldo andava via l'ultimo giorno di mercato, mi fa ancora ridere che ci sia gente che mi parla del cartello Gunista Ronaldo, quando non ha capito che il messaggio era esattamente l'opposto, perché qui su questo canale, l'addio di Ronaldo non è stato digerito bene, perché Ronaldo, l'ho sempre detto, è sempre stato uno che ci buttava la polvere sotto il tappeto, perché adesso è facile, adesso è facile parlare di Pirlo, dire, rimpiango Pirlo, se ci fosse stato Pirlo, ma non è così, ma forse non ve lo ricordate ragazzi, forse non vi ricordate come abbiamo terminato la stagione con Pirlo, forse non vi ricordate di come Ronaldo ci abbia salvato il culo, in più di un'occasione, perché Cristiano Ronaldo è un giocatore incredibile, che ha fatto vincere tre Champions di Fila Real Madrid, ha vinto una Champions anche col Manchester, è ovvio che se lo mette in dei contesti disastrosi, perché lui non cammina sulle acque, non trasforma l'acqua in vino, però si avvicina, non te li fa tutti i miracoli, ma almeno uno te lo fa, Vlaovic non può essere Cristiano Ronaldo, per caratteristiche, per palmares, per responsabilità, per personalità, però Ronaldo ti ha nascosto tanti problemi in questi anni, tanti, e pretendere che Vlaovic possa fare come Ronaldo, o meglio di Ronaldo, è semplicemente follia, e mettere in croce a Vlaovic oggi è semplicemente follia, perché in questo momento non c'è un singolo giocatore in grado di assumersi delle responsabilità, e di far vedere il proprio livello vero, perché quello che abbiamo visto fino adesso, nelle prestazioni dei singoli della Juventus, di livello vero c'è poco o niente, e Vlaovic non può essere il simbolo di questo disastro, non può essere l'attaccante che non fa gol, perché non gli arriva il pallone, ieri sera gli è arrivata una palla giocabile, era tirata in porta, e se non era spinta Milik poteva fare gol, una palla giocabile, l'altro andare più vicino al gol è stato Rugani, con un colpo di testa nel set, ottima parata del portiere, quindi colpa di Milik e Vlaovic e Rugani che non hanno fatto quel gol, io sono dell'idea che, se invece che creare due palle e gol in una partita ne crei dieci, magari un paio di gol li riesce a fare, anche se ne prendi due, anche se ne prendi due, Milik 5 perché, oggettivamente, Milik non è che abbia fatto chissà che cosa, però la domanda sorge spontanea, perché il miglior giocatore stagionale della Juventus insieme a Perin deve partire dalla panchina? Punto di domanda? Non lo so, non ne ho idea. Voto 5 a Locatelli, che mi è piaciuto davvero decisamente più di Paredes, però la prestazione è sufficiente lo stesso. 5. Voto 5 a Kostic, è entrato e, io non me lo ricordo neanche, vi giuro, non mi ricordo neanche di Kostic, gli do 5 sulla fiducia, perché 6 sicuramente no, non mi ricordo niente, se no a un certo punto che lo nominano e dicono Kostic va a destra, perché era a sinistra, 5 sulla fiducia, veramente non mi ricordo niente di Kostic, non lo ricordo di Kostic. 5 e mezzo a che? Perché entra e qualcosina fa, qualcosina fa, quindi fino adesso che è nel migliore, 5 e mezzo, fino adesso che è nel migliore con 5 e mezzo. qualcosina fa, ma il migliore è questo ragazzo qui, il migliore in campo della Juventus, il risere in Israele, è un ragazzo del 2003 argentino, che non è della prima squadra Juventus, mi viene da dire a questo punto, perché gioca mai, viene nemmeno mai preso in considerazione, entra, ci mette il suo, ci mette la tecnica, ci mette la personalità, ci mette la voglia, tutto quello che non ci stanno mettendo gli altri, tutto quello che non ci hanno messo fino ad adesso. Quindi un applauso a Mattia Sule, che è l'unico che si porta a casa un 6, perché a volte basta davvero poco, a volte basta davvero poco, per portare a casa il 6, la sufficienza e il compitino. Quindi? Quindi se tutto va bene, siamo rovinati.